Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Apriamo questa edizione del telegiornale con la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina delle forze a sostegno della candidatura di Vito Leccese e al candidato Michele Laforgia che poche ore fa ha detto di attendere dal PD le regole per le primarie. Chiedono corresponsabilità nella scelta. Vediamo. La parola corresponsabilità è la più pronunciata nei primi minuti di conferenza stampa e il destinatario è ovviamente chiaro. E a Michele Laforgia e alle forze che lo sostengono l'appello ad una condivisione nella scelta delle regole per le primarie per l'individuazione del candidato unico del centrosinistra che ad oggi dovrebbero essere celebrate il prossimo 7 aprile. E al Caffè d'Arte l'appuntamento di quest'oggi, schierati uno accanto all'altro, rappresentano le forze scese in campo invece a sostegno di Vito Leccese. Associazione Corsivo 2.0, Progetto Bari, capigruppo delle liste civiche che sostengono De Caro, oltre a Europa Verdi e ai socialisti democratici. Non mettiamo la testa sotto la sabbia, spiega Giussi Servodio, cui tocca il compito di aprire l'incontro e siamo a conoscenza della grande difficoltà, dice, che sta vivendo la coalizione di centrosinistra. Servodio richiama tutti ad un senso di responsabilità e risponde alle dichiarazioni con cui Michele Laforgia ha lasciato al Partito Democratico il compito di decidere le regole per le primarie. Presente tra il pubblico anche il segretario cittadino del PD Gianfranco Todaro. Ci dobbiamo confrontare con, credo direttamente con Michele, per capire se l'organizzazione debba aspettare esclusivamente a noi e io mi auguro di no. Non fosse altro sulla composizione dei seggi, questo è un nodo importante perché credo che la parità della composizione debba essere un passaggio fondamentale e ineludibile. Odette sarebbe inelegante se oggi rilanciassimo sul numero dei segni. Sul voto elettronico, sulle pre-registrazioni, evidentemente c'era stato un fraintendimento, ma era una richiesta, un passaggio nostro, una premessa fondamentale. Quindi ritengo e credo che la pre-registrazione del voto elettronico sia un tema superato. Pre-registrazione superata dunque per Todaro che sul numero dei seggi conferma al momento il numero già condiviso. Chiederemo di riconvocare il tavolo politico e anche la sottoscrizione di un documento, continuano in conferenza stampa, che impegni tutti nella scelta delle regole. E' come dire, più che se la vede il PD è una battuta da Ponzio Pilato. Se tu decidi di accettare le primarie devi dare il personale, i volontari, per fare in modo che le primarie siano gestite dai due candidati che scendono in campo. E di primarie abbiamo parlato questa mattina in trasmissione anche con il presidente provinciale di Italia Viva, Stefano Franco, che ora chiede la sottoscrizione con le altre forze di centro-sinistra di un patto etico. Noi siamo stati molto chiari, ma come convenzione, che dal nostro punto di vista l'approccio alle primarie classiche aveva una serie di fragilità. E quindi la politica matura, la politica seria, cerca di prevenire, e tutte le regole che noi avevamo proposto erano regole che proprio tendevano a prevenire dei fenomeni, che in passato si sono verificati, magari in questo caso non si sarebbero verificati. Detto ciò, noi abbiamo preso atto della dichiarazione che ha fatto l'avvocato Laforgia, ma ciò non toglie il fatto che il problema c'era, c'è e ci potrebbe essere. Pertanto Italia Viva ha proposto e proporrà a tutte le forze politiche, in realtà questa è stata un'iniziativa dell'ufficio di presidenza provinciale che ho trasferito all'organo cittadino che l'ha accolta favorevolmente, l'organo cittadino adesso andrà a tutti i partner perché io dico dobbiamo sottoscrivere un patto etico alle primarie. Tutti coloro, tutte le forze politiche, i movimenti, le liste che partecipano e decidono di partecipare alle primarie devono anche firmare, sottoscrivere il fatto che loro si impegnano affinché questa manifestazione sia un vero esempio di democraticità democratico all'interno della nostra città e non una mera speculazione e rendite di posizione che qualcuno magari attraverso delle formule particolari può portare a preservare, perché questo poi crea la disaffezione della politica di cui diceva il cittadino prima. Parliamo ora di sanità. Nel 2023 sono quasi triplicate le aggressioni nei confronti del personale sanitario dell'ASL di Bari nella maggior parte dei casi sono pazienti e parenti a prendere di mira medici e infermieri. Il servizio è di Giuseppe Bellino. 113 aggressioni segnalate nel 2023, un numero quasi triplicato rispetto all'anno precedente. I numeri raccolti dal servizio prevenzione e protezione riguardano l'ASL Bari, snocciolando i dati. Oltre il 64% delle aggressioni è stato esclusivamente di tipo verbale con una preponderanza di operatrici sanitari aggredite, un aspetto da non sottovalutare legato indissolubilmente al fenomeno della violenza di genere. La donna viene vissuta come più aggredibile, cioè più debole, dal soggetto maschile, dal paziente maschile e dall'utente maschio. Anche su questo va messo in atto una strategia di formazione a sapersi difendere in maniera adeguata, sempre difesa di tipo verbale. Bisogna dialogare con i cittadini, dialogare e dialogare ancora. Delle 113 segnalazioni pervenute, l'82% è stato di tipo esterno, quindi effettuato da pazienti, parenti e accompagnatori. Cittadini che in molti casi non percepiscono il lavoro estenuante che gli operatori sanitari sono costretti a sopportare, soprattutto nel pronto soccorso. È necessario quindi un lavoro di formazione e informazione che riguarda i pazienti e il personale ASL. Informare l'utente sul perché dei tempi lunghi che ci sono nei nostri pronti soccorsi e tenerli informati. Ci vorrebbe un cosiddetto infermiere di sala che informa sull'andamento delle cose e sulle tempistiche attese. Non è che questo andrà ad evitare delle aggressioni, ma andrà grandemente a ridurle. Cambiamo ora argomento. Le forze dell'ordine hanno sgomberato tre appartamenti all'interno di un palazzo di via di Cagno a Brescia nei pressi della spiaggia di Torre Quetta. Nei prossimi giorni lo stabile sarà liberato dalle famiglie che occupano l'immobile. Vediamo. Una situazione che si protrae da anni ma non è ancora in fase di risoluzione. Le forze dell'ordine sono intervenute per scomberare un palazzo di via di Cagno a Brescia a Bari, a pochi metri dalla spiaggia di Torre Quetta. Si tratta di uno stabile in condizioni fatiscenti dove fino a poco tempo fa vivevano 22 famiglie. I primi nuclei familiari si erano trasferiti ben 15 anni fa pagando un regolare canone d'affitto. I nuovi proprietari dell'immobile però si sono mossi per tornare in possesso dello stabile e lo sfratto è diventato così esecutivo. Polizia locale, carabinieri e agenti della polizia sono arrivati sul posto per liberare tre unità abitative. Le operazioni si sono concluse senza disordini. All'interno delle abitazioni non c'erano bambini o persone fragili. Come spiegano da Palazzo di Città, i nuclei familiari hanno trovato un'altra sistemazione. L'ufficiale giudiziario ha spiegato alle famiglie che occupano gli altri appartamenti che le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni. Nel giugno del 2022 le famiglie chiesero aiuto a Telebari per denunciare le condizioni di degrado in cui versava l'immobile. Sporcizia, infiltrazioni nei muri e presenza di topi erano soltanto alcuni dei problemi più evidenti. In stretta e costante sinergia con la Direzione Generale di Servizi Sociali, fa sapere l'assessore al patrimonio Vito Lacoppola, stiamo seguendo la situazione. La maggior parte delle famiglie che vivono e vivevano nella palazzina sarebbe già da tempo in graduatoria per l'assegnazione delle alloggi popolari. E per gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito internet www.telebari.it ci colleghiamo con Italo Cinquepalmi. Buonasera Italo. Buonasera Maricla e allora giornata nera per i pendolari che hanno dovuto percorrere la linea ferroviaria Bari-Roma e il ritorno a causa di una frana registrata nella zona fra Benevento e Ariano Irpino e chi ha interessato i binari, RFI ha dovuto sospendere la circolazione tra Foggio e Caserta. notevoli disagi alla circolazione, i treni della linea Roma-Bari-Lecce sono stati fatti fermare nelle stazioni di Caserta, Benevento, Ariano Irpino e Foggia. I pendolari hanno potuto continuare il viaggio solo grazie all'attivazione del servizio bus di RFI. E andiamo avanti, la polizia ha arrestato a Lecce 22 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Si tratta di 21 persone di nazionalità bulgare, un italiano. Secondo le indagini, l'associazione si occupava di portare in Italia donne bulgare che venivano ingannate con la promessa di un lavoro e poi venivano costrette a prostituirsi. Le ragazze che si opponevano venivano picchiate con violenze, in alcuni casi con una mazza da baseball. Gli incassi dell'attività illecita venivano poi trasferiti in Bulgaria, dove il denaro veniva riciclato. E chiudiamo, dal 10 al 16 marzo si svolge la settimana mondiale del glaucoma promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per l'occasione a Bari, grazie all'Unione Italiana dei Cecchi e degli Ipovedenti, venerdì 15 marzo sarà a disposizione dei cittadini l'unità mobile oftalmica, che è posizionata in via Legno, permetterà con l'impegno dei medici della clinica oculistica e del Policlinico di Bari di effettuare screening oculistici gratuiti. Bene, con questo è tutto per oggi, a te buona serata. Grazie Italo. I sindaci di Puglia possono svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere forme di partecipazione democratica. In questo contesto generale si inserisce il patto dei sindaci per la partecipazione. Vediamo. Il 12 dicembre 2023 la Commissione europea ha adottato la raccomandazione sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni e della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche. Il documento fa parte del pacchetto difesa della democrazia, che ha l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la responsabilità democratica, incoraggiando l'impegno civico e la partecipazione dei cittadini alle nostre democrazie. E' con queste premesse che è stato firmato nella sede di AICRE il patto dei sindaci per la partecipazione. I sindaci di Puglia possono svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere forme di partecipazione democratica, fanno sapere da AICRE. In questo contesto generale si inserisce proprio il patto dei sindaci per la partecipazione, uno strumento rivolto a tutti i comuni pugliesi e ai primi cittadini che potranno sottoscrivere il patto in qualsiasi momento anche in via informatica, inviando l'adesione all'AICRE Puglia. In questo periodo in cui si avverte un aspetto di diaframma tra la popolazione e le istituzioni, gli istituti di partecipazione sono importanti per avvicinare i cittadini a quella che noi diciamo la vita politica. Partecipazione significa realizzare un progetto importante, dare corso a quella che è la sovranità popolare. Noi abbiamo tentato attraverso questo progetto di proporre delle soluzioni, delle soluzioni pratiche, concrete, attraverso le quali è possibile creare momenti di coinvolgimento dei cittadini. Riqualificazione del Waterfront di San Cataldo, passi in avanti per il progetto che cambierà il volto di quel tratto di lungomare. L'Associazione dei Residenti chiede però garanzie sui parcheggi. Il servizio è di Roberto Maggi. Individuare sin da subito, rendendola disponibile con l'apertura del cantiere, un'area di parcheggio che sopperisca la diminuzione dei posti auto previsti dal progetto. È quanto ribadito dall'Associazione Residenti San Cataldo di Bari, che in un post pubblicato su Facebook è tornata a parlare della prossima pedonalizzazione dell'area di lungomare starita che passa attorno al faro. Poche settimane fa, lo ricordiamo, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo del secondo contratto attuativo relativo alla riqualificazione e pedonalizzazione per un importo di 4 milioni di euro. L'area interessata dall'intervento corrisponde allo spazio pubblico connesso al giardino del faro. La delimitazione della zona pedonale sarà realizzata con dissuasori in pietra e di tipo pilomat pneumatici che apriranno un nuovo contesto urbano, la cui pavimentazione in progetto è stata configurata con pendenze realze e tesi a creare uno spazio unitario. Lungo il percorso dello spazio pedonale sono previste panchine massello in pietra a forma di barche, portabiciclette e cestini portarifiuti. L'affaccio sul mare sarà connotato dalla sequenza di un sistema di panche di legno e ferro e dal sistema dei lampioni pubblici di tipo storico. Saranno inoltre piantumate delle palme. Il punto, però, già emerso da quando è stato eseguito il primo intervento sperimentale di restringimento della strada e quello della diminuzione dei posti auto del quartiere, ecco che i residenti, pur ribadendo il proprio apprezzamento per la riqualificazione, hanno condizionato questa apertura all'individuazione per tempo di alternative per il posteggio delle auto e nel frattempo hanno domandato un'audizione con tutte le parti coinvolte per trovare una soluzione. La cosa che ci preoccupa di più sono i parcheggi. Noi diciamo sì alla riqualificazione, sì anche alla pedonalizzazione del lungomare, purché si trovi una soluzione per i parcheggi. Quando il presidente del terzo municipio era Massimo Spizzico, fu chiuso un piccolo pezzo di lungomare, quello davanti ai ristoranti e alle pizzerie, fu aperto il parcheggio della Fiera del Levante proprio ad angolo con i ristoranti e ha funzionato. Al Teatro Margherita un evento dedicato alle guide turistiche pugliesi per far conoscere loro il magico mondo di Erwitt. Vediamo. Il mondo di Elliot Erwitt spiegato alle guide turistiche pugliesi. Dopo il successo delle due giornate aperte ai docenti, la mostra Icons, che finora ha attirato oltre 14.000 visitatori, torna a proporre un nuovo evento dedicato agli operatori del settore. L'intento è quello di approfondire e promuovere la ricerca dell'eccentrico ironico fotografo scomparso poco più di un anno fa. È una giornata dedicata a loro, alle guide turistiche, perché di fatti con l'aumento e l'incremento del turismo e dell'attrattività della nostra città, sicuramente le guide turistiche sono coloro che danno il biglietto di benvenuto e fanno esplorare ai turisti il nostro territorio. Durante l'open day le guide turistiche abilitate hanno potuto suffruire della visita per approfondire i temi contenuti, la narrazione e il percorso espositivo della mostra, un modo in pratica per effettuare una simulazione di guida da sottoporre successivamente ai propri gruppi turistici. La partecipazione permetterà a loro di accompagnare in seguito i gruppi usufruendo di uno speciale sconto promozionale. Devo dire che è una persona veramente molto sensibile, gioca molto sulla ironia, le sue fotografie sono molto suggestive e secondo me proprio affascinano sia il mondo dei piccoli, il mondo in questo caso degli animali e il mondo anche nostro, diciamo quotidiano, della vita reale ma in una maniera molto semplice e diretta. L'esposizione sarà ospitata negli spazi del Teatro Margherita fino al 31 marzo. La stiamo già progettando perché è una seconda giornata perché c'è stata una grande richiesta soprattutto dalla BAT e la zona di Lecce e quindi effettivamente, tra l'altro anche a dire, ascoltando le guide è stato per loro un piacere poter essere qui e soprattutto qualcosa di cui avevano bisogno. Stata presentata oggi la seconda edizione del MAM, evento internazionale dedicato allo spazio. Ce ne parla Letizia Giostra. Lo spazio non è mai stato così vicino alla Puglia. Sarà possibile infatti toccare il cielo con un dito con il MAM, il Mediterranean Aerospace Matching, la business convention internazionale che si occupa di quelle che sono le nuove modalità aeree avanzate, dai semplici droni a quelli che saranno i nuovi mezzi di trasporto del futuro. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, prenderà il via dal 20 marzo con tre giorni dedicati allo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni aerospaziali innovativi. Un'opportunità importante per confrontarci con il resto del mondo che continua a investire sul settore aerospaziale. Noi lo facciamo mettendo in campo tutto il lavoro istituzionale fatto in questi anni. Qual è il ruolo di Grottaglia in queste emizioni? Grottaglia intanto è il territorio che ospita la più grande fiera internazionale dell'aerospazio. Credo che Grottaglia riesca a rappresentare esattamente il ruolo della Puglia nel mondo perché mantiene il legame tra tradizione e innovazione. Da fare da cornice c'è l'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie, una delle quattro infrastrutture pugliesi riconosciute dall'ENAC. Per restare in tema si è tenuto parallelamente presso l'Università di Bari l'incontro con l'astronauta Walter Villadei per dialogare con gli studenti. Ha raccontato la sua recente missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, raccomandando ai ragazzi che anche loro un giorno, come disse Dante Lighieri, potranno uscire a rivedere le stelle. Si è chiusa positivamente l'edizione 2024 di Enoli Expo, fiera internazionale dedicata al settore olivicolo oleario. Allora tracciamo il bilancio della manifestazione in questo servizio. Con oltre 10.000 presenze e una ricca partecipazione ai convegni tecnici si è conclusa la sesta edizione di Enoli Expo. La manifestazione di riferimento del settore olivicolo oleario in Italia è uno dei più interessanti del centro-sud per il comparto viticolenologico tenutasi nel quartiere fieristico di Bari. L'edizione 2024, la prima con la certificazione di fiera internazionale, ha permesso di conoscere le ultime innovazioni tecnologiche in tutti i processi di lavorazione, dalle soluzioni avanzate presenti su macchine agricole e attrezzature per la lavorazione di olivetti e vigneti, alle macchine oleari, agli impianti per la cantina e i processi di imbottigliamento, confezionamento e packaging. La fiera non è solo innovazione, quindi conoscenza di quello che le principali marchi propongono oggi per migliorare i processi prodotti, ma è anche formazione intesa come aggiornamento professionale da parte degli operatori. Ricche anche le sezioni relative al vivaismo e ai servizi tecnologici presentati da nuove e interessanti start-up, registrati dalle delegazioni straniere presenti, selezionate dall'Istituto per il Commercio Estero, positivi i contatti con diverse aziende espositrici. Appena conclusa la fiera possiamo dire di essere molto contenti dei risultati ottenuti, sia dal punto di vista dei nostri visitatori, tutti quanti operatori di settore, che dal punto di vista dei nostri espositori, che hanno dimostrato grande felicità per la presenza di clienti molto molto professionali. Ci metteremo subito all'opera per la prossima edizione che si svolgerà a marzo del 2026 e per la quale abbiamo nuovi progetti. 12 giovani musicisti pugliesi sono volati in Bahrain per suonare al Gran Premio di Formula 1. La Vaga Band è appena rientrata in Italia. Dopo l'esibizione internazionale ce ne parla Mica D'Erasmo. Siamo qui con due membri della Vaga Band. Avete portato un po' di Puglia a un evento unico come la Formula 1. Come è andata? È stata un'esperienza al di poco entusiasmante e siamo stati contattati appunto da questa agenzia che ha creduto nel nostro entusiasmo e quindi abbiamo avuto l'opportunità, abbiamo avuto modo di travolgere il pubblico arabo e non solo internazionale perché l'evento appunto era abbastanza importante e è stato un successo davvero. Curiosando sui vostri social, ho visto la foto con Leclerc e tantissimi altri momenti emozionanti. Quali sono i vostri ricordi più belli di questa esperienza? Allora, tutto il viaggio è stata un'esperienza quindi unica. Già dal viaggio in aereo è stato abbastanza lungo. Poi siamo stati in Bahrain per una settimana praticamente e abbiamo visto tutti i piloti, sentito sfrecciare tutti i motori dalle Porsche, Formula 3, Formula 2, Formula 1 ed è stato veramente unico essere ad un passo da tutti i miti che vediamo in televisione e poterli vedere veramente dal vivo. Sappiamo che siete un collettivo di giovani musicisti pugliesi nato nel 2013, da dove è partita l'idea? L'idea è partita appunto da un gruppo di monopolitani e anche gente di limitrofa. È nato con l'intento di portare la musica alla gente però non soltanto con una performance ma proprio avvicinandoci alla gente. Cioè la particolarità del nostro show è quello appunto di avvicinarsi al pubblico. E ora quali sono i vostri progetti per il futuro? Per il futuro vogliamo sicuramente presenziare sempre più a queste manifestazioni di carattere internazionale, portare il nostro show a sempre più persone, anche qua in Puglia perché no? E insomma portare altri format al pubblico. Dal palco dell'Ariston con La rabbia non ti basta, alla Feltrinelli di Bari Big Mama ha incontrato oggi i fan per l'in-store del suo primo album Sangue. Vediamo. Siamo qui con Big Mama, La rabbia non ti basta, il brano con cui ti sei esibita sul palco dell'Ariston. Quali emozioni hai portato a casa? Ma tantissime. Sono tornata a casa molto fiera del lavoro che ho fatto ma la cosa più bella è che mi sono portata a un grandissimo carico di emozioni che vengono da altre persone. Ho ricevuto tantissimi messaggi, tantissime persone mi hanno raccontato la loro storia e questa cosa mi ha caricata ancora di più. Il tuo primo album Sangue parla di tante tematiche attuali come il bullismo, il femminismo, la malattia. Che ruolo ha la musica nelle tue battaglie? Ma la musica ha sempre avuto un ruolo prettamente principale nella mia vita in generale più che nelle mie battaglie. Ho sempre adorato scrivere per sfocare tutte le energie negative che avevo dentro. Continuo a farlo e spero di trasformare le energie negative del mondo in positive ovviamente nel mondo di chi mi ascolta. Hai definito quest'album il libro della mia vita. Qual è il pezzo che senti più intimo? Ma è come chiederà una mamma quale figlio preferisce. Sono tutti dei pezzi molto intimi perché sono scritti tutti interamente da me quindi parlano tutti di sensazioni che ho provato e provo nella vita. Sicuramente ce ne sono alcuni un po' più profondi come ad esempio veleno che è il pezzo in cui parlo della malattia. Anche cento occhi in cui parlo di getcalling che per me è un tema molto sentito. Progetti per il futuro? Allora abbiamo un bellissimo concerto a Milano il 14 novembre all'Alcatraz che è un sogno che si realizza. Alcatraz è bellissimo e poi sicuramente avremo un bellissimo tour estivo. Da quanto segui Big Mama? Da circa un annetto, un annetto e mezzo. L'ho scoperta prima di Sanremo e poi continuato a seguirla perché è un'artista che mi piace veramente molto. Mi ha aiutato tanto nel tempo perché l'amore che lei mette in se stessa mi fa sentire veramente bene. Credo che nell'epoca in cui viviamo sia fondamentale veicolare tramite la musica dei messaggi che comunque possono essere utili a tutti. Adesso è arrivato il momento di passare alle notizie che ci arrivano dall'area metropolitana e dalle altre province. Inaugurato a Casa Massima il ponte ciclopedonale che collega la città al parco commerciale. Ci spiega tutto nel servizio Francesco Russo. Un'opera attesa da ben 15 anni e realizzata a tempo di record solo 336 giorni con interventi anche notturni. Il ponte ciclopedonale è a Casa Massima in realtà ed è infrastruttura strategica per collegare il centro abitato al parco commerciale da raggiungere in sicurezza a piedi o in bici. 550 metri di lunghezza per 4 e mezzo di larghezza. Il ponte illuminato a led consente di attraversare la stata Lecento. Un grande risultato dovuto ad un lavoro di collaborazione e di interlocuzione tra i vari enti protagonisti di questa opera. Quando io ero ragazzino non avevo ancora la patente in modo pericoloso insieme ai miei coetanei attraversavamo il ponte o in bicicletta o a piedi. Ora per fortuna questo non accadrà più. È una struttura estremamente importante dal punto di vista tecnico perché non tutti i giorni si vede un ponte ciclopedonale sovrastare appunto una stata A. Un progetto estremamente complicato dal punto di vista tecnico con un intider burocratico altrettanto complicato. Oltre 3 milioni di euro il finanziamento per la realizzazione interamente erogato da Citrus la società proprietaria della galleria commerciale di Casa Massima. Tutto questo per favorire veramente un po' la mobilità dolce che è quello il nostro obiettivo e quindi questo è forse un primo passo importantissimo per poterla raggiungere ma sicuramente negli anni andremo ancora a migliorare questo tipo di mobilità perché il futuro è quello cercare di portare quanto meno macchine possibili verso il centro commerciale e farle arrivare con altri mezzi. E andiamo ora a Trani dove la personale del giovane artista Gigi Bucci è ancora visitabile al Palazzo delle Arti. Gigi Bucci dopo esperienze artistiche a Sparta, in Grecia, in Inghilterra e in Alto Adige espone a Trani nella sua città. Gigi Bucci possiamo dire poi che dal caos nasce il meglio, no? Certo sì, è un equilibrio diciamo tra il caos e l'ordine, è un po' quello che ci accompagna tutta la vita, un po' di alternarsi tra l'ordine e il disordine. Senti, questa mostra a Palazzo delle Arti, tu sei in questa zona incastonato come una pietra antica, sei sempre qui dopo le esperienze in Grecia, in Alto Adige, insomma un po' dappertutto. Il bilancio che ti dice è stato molto interesse? Sì sì sì, devo dire che è stato interessante anche usufruire di questi spazi, il Palazzo delle Arti Beltrani è sempre un'ottima vetrina e sono molto orgoglioso anche della possibilità di aver fatto questa mia personale, anche grazie a Niki Battaglia e a tutto il suo staff. Ecco, ma i tranesi hanno capito che hanno un artista in casa di livello internazionale? Sì, ma pian piano il percorso di un artista è lungo e perciò deve entrare nell'anima delle persone, pian piano, non ho nessuna fretta. E sei giovane soprattutto. E andiamo ora a San Giovanni Rotondo dove l'arma dei carabinieri ha donato giocattoli e uova pasquali ai bimbi ricoverati di casa sollievo della sofferenza lasciando alla struttura anche un assegno da 8.500 euro. Vediamo il servizio di Nicola Saracino. Un bel gesto da parte dell'arma dei carabinieri. Circa 250 allievi carabinieri di Campobasso si sono recati a San Giovanni Rotondo dove sono stati ricevuti dal comandante provinciale di Foggia il colonnello Michele Miulli e da una rappresentanza della locale compagnia dei carabinieri. Dopo una visita guidata presso il santuario di Santa Maria delle Grazie e la partecipazione alla Santa Messa una delegazione dei lievi carabinieri si è recata presso la casa sollievo della sofferenza dove ha donato ai bimbi ricoverati giocattoli e uova pasquali nella speranza di aver regalato momenti di felicità ai piccoli degenti. A seguire ai responsabili della struttura è stato consegnato un assegno di 8.500 euro per l'acquisto di un bene che sarà utile alle finalità dell'ospedale testimoniando così l'affettuosa vicinanza dell'arma. È bello vedere come i ragazzi e ragazze così giovani che stanno affrontando un qualificato percorso formativo per diventare carabinieri abbiano colto così profondamente i valori di solidarietà e vicinanza alla gente che l'arma ha sempre tramandato nel tempo e che ciascuno di loro porterà con sé ha commentato il colonnello Michele Miulli elogiando così il bel gesto degli allievi che in attesa di completare il loro percorso di formazione hanno già conquistato quello della solidarietà e dell'umanità. Le panchine letterarie di Taranto da testimonial di arte, cultura e bellezza, testimonial di inciviltà e ignoranza, ce ne parla Angelo Ingenito. A dicembre del 2022 in 8 luoghi simbolo della città furono installate con un investimento fatto ad hoc dall'amministrazione comunale di Taranto le panchine letterarie che furono dipinte da illustratori tarantini e non solo con varie deriche. Come Nunzia Marzella che dedicò la sua creazione nel ricordo del soggiorno tarantino della poetessa Alda Merini, la cui installazione trovasi in uno dei viali della Villa Peripato. Oppure come Michele Pacente, street artist ginosino che prese ispirazione invece dal passaggio tarantino di Pierpaolo Pasolini. Oggi alcune di quelle panchine sono state vandalizzate, deturpate, imbrattate, altre invece sono in precario stato di conservazione. La mancanza di senso civico sicuramente è un dato di fatto, ma più cura da parte dell'amministrazione comunale non guasterebbe. Ma non come è stato fatto alla panchina dedicata ad Alda Merini che si trova nel cuore della Villa Peripato, che gli operatori di chi ma servizi, sollecitati da non si sa chi, l'hanno imbiancata scatenando la rabbia dell'ex assessore alla cultura di Taranto Fabiano Marti, che sui social ha gridato allo scempio scagliandosi contro chi ha dato l'ordine di imbiancare quella panchina. Perché ognuna di esse racconta un pezzo di storia della città di Taranto. Bene, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione di Telebari prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it. Buon proseguimento di serata. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà un ulteriore aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo e sull'Italia. Insomma, il tempo finalmente si sta per mettere al bello, si è allontanata verso estra, depressione responsabile del maltempo dei giorni scorsi. Contra una nuvolosità attesa sull'Italia, qualche nuvola, ma è stata per lo più di velature alte di passaggio, si farà vedere, ma nel complesso, vi garantisco, ci attendo un mercoledì soleggiato in gran parte del paese. Anche come precipitazioni, qualche macchionina azzurra, guardate, la troviamo nelle estreme regioni meridionali e nel pomeriggio lungo l'Appennino, un minimo di variabilità in queste zone, ma fenomeni davvero comunque isolati. Insomma, ci attendo un mercoledì nel complesso bello in gran parte d'Italia. Diciamo un po' di variabilità ancora al sud, lungo la dorsale appenninica, ma giornata che ci regalerà anche ampie in zone di sereno e temperature in tutta Italia oltre i 15 gradi. Per i dettagli sulle vostre località, aggiornato, scaricate la nuova app di Trevi Meteo.